...utopica o meno, ma un po' l'obiettivo di realizzazione che volete dare a questo progetto. Abbiamo estratto questa immagine da un bel foglio di appunti che non vi faremo vedere, che abbiamo chiamato la grammatica del libro. È una maniera molto schematica che utilizziamo per riflettere tutti insieme su che cos'è un libro. È un po' la storia del per fare un albero, no, cos'era? Per fare un tavolo si vuole legno e così via. Allora, un libro è fatto di pagine, le pagine di solito sono fatte di carta, ma non è detto di che carta dipende da voi. Un libro ha una copertina di risguardi, la copertina può essere rigida, morbida e di solito la copertina è composta da due facciate, ma non necessariamente. Un libro può avere una sovraccoperta o non averla. Cosa lega la copertina all'interno? Una serie di materiali che sono la costa, i capitelli che sono i punti estremi della costa, un libro ha delle risguardie. A cosa servono le risguardie? Oddio, quanti non nominati sarei? Sarò arrivata a otto. Ma anche se non la bandella è la fascetta. Ah, vedi? La bandella! Vabbè, la bandella l'avevo detta quando avevo detto la copertina, può essere fatta da due facciate, ma non solo. Ecco, rispetto a questa cosa, che cos'è per voi un libro? Adesso avremo le professoresse Antipati. Tu rispondimi! Ecco, qui avete sotto una serie di paroline magiche per appunto... Questa è la piccola lista di partenza che non solo, ma compone un po' quella parentesi graffa dell'equazione che uno dovrebbe risolvere in maniera equilibrata quando va a costruire un libro e che ci piacerebbe, voi utilizzassete per darci un po' lo stato del vostro lavoro o per andare ad allenare i libri degli altri, i libri che vedete, anche per leggere i libri e capire che cosa può essere utile a voi vedendo un libro. Quindi magari segnatevi queste cose perché sono le prime domande che vi facciamo. Questo è una lista di partenza che si moltiplica chiaramente all'infinito, dove è anche chiaramente in vivo ordine, però chiaramente una cosa che è già venuta fuori che aggiungerei subito è quella proprio del ritmo, come prolunga della questione dell'editing delle immagini oppure tutte queste cose che abbiamo detto che si impongono a livello di oggetto e libro possono essere in esse come prolunga e possibilizzazione della visione per riguardo al soggetto grafico e gli obiettivi, le proporzioni, poi alla fine sono tutti anche molto legati per loro e ci piacerebbe proprio per il fatto che abbiamo compilato una lista incompleta chiunque la legge magari ci dice ma manca appunto, manca il ritmo, ma manca, non lo so. Così l'aggiungiamo e il prossimo workshop è peggio per gli altri. Un'altra cosa che è un piccolo dettaglio di cui non abbiamo parlato, ma che nel lavoro mio di Fiore ci sono delle parti che sviluppiamo insieme, delle parti che magari su cui mi concentro più io delle parti su cui si concentra più Fiore, una delle cose su cui poi alla fine a livello pratico per esempio è una pausa necessaria, è la ricerca font. Allora arriva sempre un punto del libro in cui ci siamo create un'idea, come la vogliamo? Aggraziata o bastoni? E queste parole dicono qualcosa per voi? Signorina con il maglioncino grigio, lei che mi guarda con sguardo interrogativo, per te ha senso direi, ha graziato bastoni? Sì. Ok. C'è qualcuno per cui non ha senso questa cosa o non capisce quello che diciamo? No. Bene. Un elemento che io subito aggiungerei a questa lista è che magari spesso non l'abbiamo messo ma fa parte proprio molto anche del nostro metodo di lavorare e spesso ci rendiamo conto che ci differenza un po' da altre cose è il tempo. Il tempo. Noi pensiamo che per un libro ci siano dei tempi di digestione che passano un po' attraverso cinque o sei stomaci e quindi... Siamo ok, hanno un baffo. Il tempo è un elemento veramente fondamentale nel passaggio tra una parte e l'altra perché è quello che ti permette veramente di arrivare a una densità che può durare. per esempio in uno degli ultimi... Entrambi, no, tutti e tre i libri grossi che abbiamo fatto, questi di Eleonora Calvelli, di Pier Casotti e di Salvatore Saltoro, il tempo è sicuramente stato un elemento fondamentale per andare a costruire anche un tipo di narrazione fotografica che è un po'... Arriva al punto. Arriva al punto ma si distingue un po' dallo storytelling classico, premessa, climax, conclusione ma che cerca di costruire anche la narrazione in base a quello che si vuole dire, poi magari si avremo tempo di approfondire durante... Per quanto, cioè, rispetto anche allo storytelling classico, già iniziare ad avere una premessa, uno sviluppo, una conclusione è tanto e magari noi che siamo vezzose ci interroghiamo su strutture più complesse, però è importante anche partire dalle strutture semplici, cioè vi riporto proprio un'esperienza personale, a me è capitato di avere a che fare con persone che scrivevano in maniera molto molto complessa e tendevano a decostruire il linguaggio e a un certo punto io mi sono resa conto che scrivevo cose confuse perché partivo dalla decostruzione del linguaggio anziché dalla costruzione, per cui ecco anche rispetto a quello partiamo da cose semplici e rispetto al tempo, anche lì vi facciamo un esempio molto semplice che è il libro di di Viaggiaggio Casotti, che già è un mullone infinito, abbiamo lavorato 5-6 mesi e siamo arrivati a luglio completamente sorridi dicendo, oh beh, lasciamolo là, l'abbiamo ripreso a settembre e mezza giornata è diventato la metà di quello che era, cioè ecco quando parliamo del tempo diciamo proprio che c'è bisogno di lasciarli da parte perché poi uno si coinvolge e appunto noi ci rendiamo conto della difficoltà di un fotografo, del riuscire a mettere a fuoco perfettamente quello che vuole dire, ma questo spesso che è una distanza che chiede ad altri di riconoscere, tante volte in questi ultimi giorni abbiamo sentito, ah ma lei che cosa dice, cosa dovrei fare, lavorare più sul ritratto, dovrei lavorare un po' più su questa parte della storia, devo approfondire delle cose, ecco, lo chiediamo agli altri perché non riusciamo a prendere una giusta distanza con noi stessi, per cui a volte non abbiate fretta, mettetevi il vostro lavoro un po' da parte e poi iniziate a interrogarlo molto banalmente come fosse un'altra persona, appunto, anche su questa cosa forse a febbiare l'ho aperto. Volevo dire solo un'altra cosa che è venuta fuori molto nel fare il workshop che ci è sembrata molto interessante, attraverso cui molti autori sono passati, ci hanno raccontato anche autori grandi, è quella di, proprio rispetto al concept, di pensare, spesso uno dice faccio un progetto, scegli un tema, scrive un testo, si dà degli obiettivi e spesso abbiamo visto che lavorando poi sui materiali raccolti non c'era una corrispondenza tra gli obiettivi, il concept di partenza e il materiale, e spesso questa distanza salverà la più grande difficoltà nel lavorare sui materiali, quindi succede, e non è grave, di dover ritrovare il concept nel materiale, piuttosto, ed è spesso molto più facile e anche difficile che far corrispondere il concept di partenza al materiale che si ha, non so se è chiaro. Io credo che ci è successo l'altro ieri praticamente, stiamo lavorando a Roma, teniamo un corso sul libro che ha appunto un po' più di tempo e è una cosa che abbiamo chiesto anche a chi di voi non ha un progetto di libro, una maquette, di portare dei libri che possono essere un punto di partenza, un'ispirazione per relazionarsi al proprio progetto, allora cosa è successo? Che questa ragazza ha fatto un progetto storiale, erano tutte immagini uguali, stesso taglio, stesso stile e il libro che ci ha portato come riferimento era un libro, non so se sapete come è fatto per Family of Men, diciamo la struttura della pagina è una struttura composta, ve la faccio molto semplice, come se fosse 5-4 immagini, cioè 5 immagini sulla sinistra, 4 sulla destra e tutto combinato. Ascolta, ci hai portato 20 immagini, ci hai detto che ce n'è 30 e il tuo punto di riferimento è un impaginato a struttura composta fatta da 5-4 pagine e da 5-4 foto, come ti vuoi relazionare a questo libro? Cosa vuoi fare? Dei dettagli, dei crop, delle cose? No, boh, anche questo, guarda, finalmente è un tabù che abbiamo proprio sdoganato, tagliamo queste immagini, giochiamoci, vi facciamo vedere delle cose anche oggi per noi sono state importanti, perché basta che uno lo faccia con condizione di causa, le immagini sono immagini, sono i nostri strumenti, ci inventiamo parole nuove, non riesco perché non possiamo lavorare sulle immagini, però ecco, questa è una congruità, una coerenza tra progetto e contenuto, non andatevi a inventare il sacco di trinsillacchere se poi non avete la sostanza su cui basarle. Comunque, intanto, così poi iniziamo a vedere i libri, vi facciamo vedere due o tre cose che vi raccontano qualcosa di noi, per chi magari ci conosce un po', di meno o non ci conosce per niente. Queste sono delle immagini della copertina di saluti da pimenta a mare. Qualcuno non ha mai visto questo libro? Tanto poi? Non fisicamente. Va bene, allora l'obiettivo oggi pomeriggio. Diciamo, abbiamo giocato su tutta una serie di cose, come avete visto da l'immagine numero 31, la copertina ha una sovracoperta che diventa un poster, vi raccontiamo proprio, questo libro ha iniziato copiando un altro libro, che adesso uso una parola un po' esagerata naturalmente, però c'è un libro di Hank Wildschut che si chiama Shelter, un poco quando abbiamo iniziato a interrogarci su come trasferire il nostro concept dopo aver visto le immagini di Salvatore in un libro è stato un punto di ispirazione, perché? Perché Hank Wildschut, come molti libri olandesi, lavora su formati diversi di pagine. Allora l'idea che volevamo trasmettere di Salvatore era questo doppio racconto, era come questo viaggio in macchina lungo la Domitiana che è questa strada, la prostituzione, droga, e i suoi ricordi di infanzia che si intrecciavano in questa prima narrazione, dei ricordi che però non volevano prendere il sopravvento rispetto alla storia che Salvatore voleva raccontare, che era di quanto questo territorio nel corso del tempo si sia degradato, della situazione attuale e surreale di questo territorio che non è semplicemente tragedia, ma è veramente tragicomico a volte, amaramente tragicomico. E quindi è stato utile, andate a vedere anche su internet questo libro, per capire che magari potevamo usare due formati diversi di pagina, che ci aiutavano a intrecciare queste narrative, queste narrazioni, in maniera chiara ma con un risultato formale che ci piacesse. Non ci siamo immagini qua della sovrapposizione, però ci sono dei piccoli pacchetti di pagine più piccole che si sfogliano sopra le pagine più grandi e questo diciamo che rende moltissimo anche l'appartenenza del passato al presente e il fatto che nonostante sia un lavoro di documentazione, la distanza è comunque sempre quella che passa attraverso l'esperienza personale. Ci stanno un po' immagino di sovrapposizione. Eh? C'è la cartolina di Saluti da Pinetamare, la stessa copertina è una sovrapposizione. Saluti da Pinetamare, questo libro si chiamava, come si chiamava? Noi ogni volta non ce lo ricordiamo, perché aveva un acronimo latino, Inoxi, New Inces, o qualcosa, cioè una cosa che ogni volta la leggevamo e diciamo ma che significa? Ecco, anche questo è importante, cioè quando scegliete un titolo, cercate un titolo semplice ed efficace, allora guardando, eravamo lì con Fiore a dire Madonna, ma come facciamo con questo titolo? Ma non lo riusciamo a capire, non riusciamo nemmeno a ricordarcelo noi e guardando le foto, Fiore ha tirato fuori questa cartolina che è una cartolina fotografata da Salvatore e da cui potete vedere, forse intravedere l'ideale di russo sfrenato agli 80 napoletano che voleva trasmettere questo posto, Saluti da Pinetamare, è bellissimo, va benissimo questo titolo, abbiamo voluto sovrapporre la fotografia di questa cartolina invece all'immagine di Salvatore, ne approfitto magari per dirvi due cose di questo tipo di copertina perché noi ci abbiamo messo qualche settimana a capire come si chiamava questa cosa, ecco anche questo è importante ed è sempre molto importante relazionarvi con i tecnici, con i tipografi, con gli stampatori e con tutti quanti perché sono quelli da cui poi riuscite ad affinare la vostra conoscenza, dopo un sacco di tempo che diciamo no vogliamo fare una copertina che si piega, poi come questo gli mandavamo le foto, le libri, gli avevamo le copertine così, abbiamo capito che alcuni li chiamano copertina antistrappo, sovracoperta scusate antistrappo o sovracoperta alla francese, sono sciocchezze ma quando dovete, come è fatto il vostro libro? ci sono tutta una serie di caratteristiche, di nomi che è bene iniziare a dare a quello che fate e anche lì il rosso della copertina interna è stato un elemento molto importante per dare un taglio narrativo anche questi elementi sono cose su cui vi chiediamo di riflettere la nostra critica rispetto al primo editing che abbiamo visto di questo libro era che erano state date all'immagine una dimensione, non sappiamo bene come parlare in pubblico di queste cose perché siamo feroci quando lo facciamo in privato era un filtro molto fotogiornalistico in cui diciamo la distanza non era quella partecipativa del soggetto che ha sempre avuto una grande affezione, una grande partecipazione a quello che stavo osservando ma era il classico atteggiamento pointing lo chiamiamo fra di noi bambini del Biafra negli anni 80 in cui l'oggetto viene veramente trattato come oggetto, vengono attribuite delle caratteristiche molto chiuse diciamo tendenzialmente si tira fuori la notizia tra virgolette cioè il lato più scabroso, tra virgolette interessante dove succede qualcosa ma in realtà per noi diciamo le cose non succedono in una foto sola o nella foto dove appunto il bambino si avvicina ferocemente all'obiettivo ma più in una giusta distanza di partecipazione per noi in questo caso era molto importante il sonoro che poi abbiamo anche qua, spero che funzioni in un'intervista a Salvatore appunto gli hanno chiesto qual è la colonna sonora del libro per noi è stato proprio importante con lui dirgli guarda Salvatore quando abbiamo lavorato a questo libro e l'abbiamo lavorato con una musica sotto che ci sa che non c'è il sonoro no non funziona vabbè lo conoscete il piccolo Lucio a me mi piace Nutella? sì il sonoro di questo libro voleva essere il piccolo Lucio non voleva essere di Asire qua c'avevamo il Melonaro che anche non era male ma purtroppo non funziona proprio però ecco quando spieghiamo queste cose agli olandesi che pensano che vengono in Italia c'è un pezzo d'Africa del terzo mondo no dicono Gomorra o che dicono Gomorra e noi diciamo no qui ritorniamo all'ultimo libro che abbiamo fatto ah no scusa mi sembrava che non era male questo è proprio il primo passo nel lavorare al libro di Pier Giorgio Gasotti abbiamo fatto una selezione al computer Pier Giorgio non so quante foto ci ha dato 5.000, 6.000 foto e da queste ne abbiamo rese ma guarda c'è gente che lavora con numeri ben peggiori quindi la prima, anzi ci ha dato anche lui una prima maquette di libro anche lì magari avevamo delle perplessità sul linguaggio utilizzato sulla scelta delle immagini per cui gli abbiamo detto facci vedere tutto quello che hai tutto quello che hai appunto prima erano mille no dai non è vero ce n'è ancora poi sono due mila poi alla fine siamo riusciti ad avere praticamente tutto e da queste ne abbiamo tirate fuori penso un 300 o qualcosa del genere che ci siamo stampate abbiamo fatto proprio senza una cosa che sentiamo spesso è eh no perché questa la post-produzione non è cioè cerchiamo di lavorare sempre su immagini neutre che ci aiutino a pensare a cosa vogliamo anche da un punto della resa di tiro del colore, dell'effetto poi magari noi abbiamo il nostro gusto personale che tende a non voler mai caricare troppo l'immagine perché appunto ci sembra che questo tipo di post-produzione molto carica riporti a un certo tipo di fotogiornalismo rispetto a cui abbiamo qualche perplessità ogni tanto però in generale ecco c'è un momento preliminare in cui un sacco di cose sono sospese bisogna continuare a mantenere la consapevolezza di questa sospensione per cui queste sono stampe fatte con stampante laser dove non si vedono un miliardo di dettagli infatti magari poi quando lavori sul dettaglio la devi un attimo riaprire al computer e cercare di vedere però ecco e qui abbiamo iniziato a però diciamo che non si prescinde dalla stampa dell'immagine nel lavorare è una sequenza perché è impossibile pensare di fare un libro come ci è capitato col computer per noi è impossibile ma diciamo che ne abbiamo avuto riscontro nella maggior parte delle persone con cui abbiamo lavorato ha preso anche workshop fatto workshop con più esperienza diciamo che la fase del riempire la stanza di piccole immagini è piuttosto imprescindibile come quella di ritornare al computer perché è una dialettica complessa anche lì ritorniamo al ritmo veramente bisogna passare dalla concretezza all'astrazione e cercare vari livelli di concretezza e di astrazione perché alla fine un libro lo devi sempre mettere alla prova per vedere se funziona e magari poi vi facciamo vedere due o tre trucchetti che noi con cui giochiamo sempre per lavorare sul ritmo ma comunque insomma per esempio qui è proprio partito da una cosa molto basilare cioè quanti ritratti abbiamo quanti paesaggi abbiamo che immagini legate a un paesaggio vuoto quali immagini legate a un paesaggio animato quali immagini dove c'è la dimensione degli interni della casa a volte ragionare sul libro significa veramente avere quante mele abbiamo quante quante quanti chiui quante cose e poi da lì cercare di costruire un bel qua era bello perché c'era il primo dammi del libro ma anche questo non parte ci vuole un plug in ma non c'è però insomma ecco questa era la prima copertina la cosa bella è che tutto fotocopia il passaggio attraverso piccole stampe perché anche lì non puoi capirlo se non lo sfogli quindi qualsiasi cosa tu possa stampare la devi stampare e vedere una dopo l'altra perché se lo schiacci sul pdf non è impossibile da da vedere su questo abbiamo gli esempi anche delle piccole maquette queste erano maquette grandi dieci centimetri per vedere diverse possibilità di di impaginazione su questo ci siamo molto divertiti da poco che siamo stati ad Amsterdam e abbiamo scoperto il libro più piccolo del mondo ed è anche il libro più grande del mondo no adesso mi sono dimenticata il nome di lei Anna è una delle più grandi designer olandesi Anna Bo va beh se lo ricorderemo dopo vi do riferimento perché è interessantissimo hanno appena pubblicato con questa casa editrice che si chiama Colorsenbook due versioni di un libro che racconta tutta la sua storia di design editoriale e la cosa bella è che hanno fatto un libro di queste dimensioni è un libro di dieci per dieci centimetri perché lei normalmente come metodo usa fare delle piccole maquette per testare in piccolo la funzionalità dell'oggetto perché un oggetto che deve funzionare in una dimensione deve funzionare anche in una dimensione più piccola l'esperienza della scala vai a trovare come osservatore degli equilibri o dei pregi e dei difetti che non puoi vedere poi nella dimensione finale questo è molto interessante da provare i rapporti interni quello che magari abbiamo sintetizzato con proporzioni ma appunto è un equilibrio che riporta l'idea di scheletro anche quando lo vedi stampato a dimensione reale a volte lo prescindi ma quando lo vedi in piccolo certe dimensioni è un po' come quando ti dicono devi mettere un'immagine al contrario in cui non vedi più l'immagine ma vedi i rapporti formali ecco più o meno e qui anche vi facciamo vedere i passaggi attraverso cui passiamo no questo è questo è Leonora Calvelli è il nome appunto anche lì magari nell'immagine prima siamo passate e sono questioni veramente di centimetri di proporzioni minime però siamo passate da una proporzione orizzontale a una proporzione verticale a un formato quadrato per poi arrivare a un quadrotto e questo secondo tutta una serie di riflessioni che magari per voi hanno poco senso però il verticale a noi sembrava che valorizzasse molto le singole immagini fotografiche cosa che ci portava lontano da quella dimensione invece comunicativa che volevamo dare al libro dove l'orizzontale ci sembrava che riportasse invece una dimensione più facilmente narrativa il quadrato era quasi banale però in questo libro volevamo lavorare sul concetto di banalità su appunto una banalità che arrivasse a tutti e non fosse legata solamente all'elite degli amanti della fotografia la cosa rendeva le immagini un po' statiche e allora veramente anche un centimetro in più crea quella differenza è come quando vedi le immagini poco 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 storte non funzia peccato non so cosa dire su questa immagine bianca se passiamo a quella dopo no quella dopo è questa vi raccontiamo qualche cosa che riguarda appunto una serie di strategie che direi che è la cosa con cui più o meno grazie concludiamo ci sono vabbè delle mostre questa qui è il sito online di postcard dove abbiamo cercato di lavorare un po' sul preacquisto alcuni di voi che conosciamo appunto hanno partecipato a campagne di crowdfunding o hanno pensato di realizzare il proprio libro anche con questo supporto è importante sempre pensare appunto ritorniamo alla dimensione degli obiettivi non solo a che cosa volete fare ma anche quali sono i mezzi attraverso cui vorrete raggiungere i vostri obiettivi non solo visivi non solo formali ma anche proprio concreti materiali questa campagna per esempio che abbiamo fatto su postcard è riuscita a coprire una percentuale ridicola dei costi del libro una buona percentuale l'ha coperta in questo caso le famiglie arcobaleno e purtroppo ragazzi non siete solo fotografi siete uno nessuno centomila dovete mettervi in tante posizioni ma anche in quelle in cui se volete fare un libro dovete trovare i fondi per farlo spesso non vi illudete di andare da un editore che vi dirà questo libro è bellissimo te lo stampo io sostengo tutti i costi anzi ti invito a casa mia a stamparlo perché non è così ed è una cosa che anche a livello di esperienza personale sembra quasi un'ingiustizia ma entrando nel mondo dell'editoria e nella crisi del mondo dell'editoria capisci anche un poco di più le ragioni dell'editore per cui veramente ancora una volta la realizzazione del libro è un gioco di squadra non solo da un punto di vista della progettazione fisica del libro ma anche di poi quello che uno vuole fare concretamente Salvatore c'era un'altra ieri Salvatore e Pierre erano a Look a Photo Digital a presentare il loro libro e tutto quanto sono delle starlet dell'editoria fotografica hanno vinto un salto di premi nessuno se lo compri un libro vedi delle immagini bellissime vendevano un libro più cambio shimano o un set di pentole alla modica cifra ecco i libri non sono fatti per rimanere in magazzino a meno che non faccia parte del vostro concetto di lungo periodo però insomma questo dubito che succeda alla maggior parte di voi infatti sia Salvatore che Pierre sono stati selezionati a dei premi sono stati nominati tutti e due su FOM che è la rivista penso migliore su cui uscire con una buona review recensione recensione Pier è stato nominato ieri tra i migliori cinque libri dell'anno dal Washington Post ma è nella lista dei cinque libri dell'anno ma questo non assicura niente appunto Pier sia Pier Casotti che Salvatore passano la maggior parte dei weekend in giro a vendersi personalmente i loro libri quindi non è che nell'ambito della pretesa o della possibilità di avere qualcosa dagli altri purtroppo in questo momento non esiste per cui vuol dire a vendersi personalmente dove vuol dire a stare non ho accesso a internet ne avrei mostrato delle foto ci sono una serie io ce l'ho perché me l'ha appena messo stavo cercando come si chiamava Anna ma se vuoi vedere qualcosa di particolare giriamo lo schermo di che cifra stiamo parlando di libri per curiosità da produzione questo libro in vendita cosa a 38 no 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 di numeri di copie mille 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 Pier Giorgio 500 Pier Giorgio va già meglio però per esempio vi facciamo un esempio proprio concreto i costi di produzione su 500 mille più o meno è un un optimum nel rapporto tra costo di produzione e spettate ve lo dico meglio sul costo unitario del libro cioè quando stampi un libro in offset di solito hai un costo per copia che su 1000 inizia ad essere un costo limitoso se tu scendi a 500 non costa la metà costa tipo un po' più dei due terzi e questo quando poi vai a vendere il libro a decidere un prezzo di copertina naturalmente una grande influenza per cui per esempio Pier ne ha stampati i 500 adesso ce ne ha un 150 che gli rimangono da vendere però ha pagato i suoi libri molto molto di più di quanto possa averli pagati un salvatore che ce ne ha però ancora da vendere non è che c'è il tuo 500 che si deve tenere un po' a casa un po' brutto il letto un po' nella camera delle bambine ecco sono tutte cose che spesso vedete delle coedizioni che significa che magari ne fanno mille 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 però tutto è in una stessa tipografia e riescono così ad abbattere molto i costi di promozione ecco sotto i mille ed è anche un po' il rapporto quando uno deve scegliere se per esempio stampare in digitale o stampare in tipografico quando diciamo se li vendono da soli significa che appunto magari si trovano sono Pier per esempio si è fatto quest'estate un giro per l'Europa in macchina con la macchina carica di Liddy è andato in tutte le principali città europee si è fatto un elenco di tutte le librerie andava lì a botte di 5 è riuscito a piazzarne una serie significa che loro passano almeno un giorno alla settimana in cui raccolgono gli ordini che vengono loro fatti via internet e vanno alle poste e speriscono fisicamente i libri questo significa veramente quello che dice lo salvatore che è magari così solo self-publishing qui è self-vaya le poste self-distributing self-vaya il sito web da solo che inizia ad essere una cosa un po' più complessa se volevo far vedere il video dei ragazzi ma oramai forse è anche tardi cerco cosa quello della vendita ma di ieri forse devi andare su facebook devi andare su salvatore santoro si ma era facebook che non ci voleva forse aspetta non so come magari eccolo fa molto un libro scelta con cambio shimano mancano due minuti due ore e 56 secondi e questa è un'altra domanda che vi faremo qual è l'ultimo libro che avete comprato e quando che a volte perché tutti li vogliamo fare tutti li vogliamo vendere ma poi nessuno li compra e allora un po' diventa un circolo vizioso noi da questo punto di vista abbiamo la coscienza a posto perché siamo tipo dipendenti e quindi abbiamo un problema di acquisto molto serio adesso magari non lo so che dici iniziamo iniziamo la parte pratica l'altro tavolo come va bene facciamo una piccola cosa vi dispiace e poi magari vi organizzate non so se c'è già qualcuno che ha detto 3 minuti 5 minuti non le sono ricordate il nome della testa o è una tecnica per non farsi iscrivere aspetta che vediamo quel posto la spedizione costava 700 euro l'andata e 700 euro al ritorno abbiamo detto ma scusami invitiamo qualcuno prendi un bagaglio di più e infatti però anche qui siamo arrivati a un bel bagaglio a 40 cose però insomma capisci i costi ecco mi scriveva un amico lavoriamo per un magazine che è un po' lento a realizzarsi perché i contributors sono lenti e non rispondono mai però insomma che è a base a Berlino e questa volta la volta precedente il primo numero l'abbiamo stampato in Polonia perché a livello di primitivi stampare in Polonia con viaggio siamo andati io l'editore Fiore e siamo stati una settimana in Polonia ci ha costato comunque la metà di quanto ci sarebbe costato in Germania tanto per dirti la cosa compreso anche il trasporto però ti devi fare tutti questi calcoli ho scritto un'altra cosa visto che il mercato vi immagino l'ho conosciuto benissimo e voglio dire qual è l'aspettativa di un libro di successo di vendita qual è? cioè nel senso dici se va benissimo ne vendiamo? c'è un libro che ha avuto successo quanto ha venduto? tutto non so ho capito ma tutto ne ha prodotti mille o tutto ne ha prodotti duemila? beh allora per esempio parliamo di un caso il relatante che avrete tra qualche giorno no? Cristina De Middell Afronauts Afronauts è stato stampato in 750 copie e le ha vendute tutte ed è stato un caso clamoroso e quasi paradossale di cui tutti discutono e tutti sparlano però insomma più o meno è quello anche Mirella di Potavini prego? Mirella di Potavini Pausto Potavini ha vinto anche il Wordpress quella donna che aveva l'anzaino cioè l'ha fatto anche la Pagni che ha già venduto tutte le copie prima di stampare aspetta che mi ha fatto posso fare una ricerchina svinta non è da poi ti dico l'ho contato anch'io prima e la stampa e sai quanti ne ha stampati? no 25 euro la previsione di stampa no però credo di aver letto che aveva coperto tutte le spese per tutti quanti libri sono già venduti anche prima di essere stampati beh anche un nostro amico ha fatto un crowdfunding che gli ha coperto le spese di produzione no? 150 voti magari possiamo fare un esempio ci puoi raccontare della tua esperienza di crowdfunding come si chiamava questa piattaforma? no crowdfunding che adesso è in standby tra l'altro e perché? non lo so e niente che devo dire che percentuale si prendevano? ma allora discorso che non lo so nel senso che e non è una vera percentuale perché adesso non approfondirei questi aspetti cioè nel senso che non ho capito ancora bene come si è svolta la cosa quello che ho visto però da altre esperienze è che spesso quando fanno così cioè loro arrivano a coprire non solo la cifra del costo ma c'è una parte in più che cede il costo di produzione in più ci sono anche delle copie in più che vengono stampate per cui il crowdfunding è non so 25 euro per vendi 500 copie virtuali quindi dentro sono soldi poi con quei soldi stampi più copie e quelle le vendi non ho comunque qualcosa che è bello no il concetto corretto secondo me giusto e equo e intelligente anche sarebbe il libro da produrre costa torta e il crowdfunding lo faccio per coprire torta se ce la faccio bene lo avrei venduto tutte le copie però spesso non viene fatto così c'è un guadagno ulteriore oltreffatto che non rischi niente e poi parliamo sempre del costo di produzione di un libro quando facciamo un po' il sindacalismo cospiccio qui in questo mercato ma è una cosa rispetto a cui quando facciamo i corsi diciamo sempre guardate che facciamo un corso di sei mesi per farvi capire che dopo sei mesi non potete farvi il libro da sole e qui più o meno non vorremmo essere pessimiste o trasmettervi eccessivo pessimismo però per noi è molto importante perché sono delle cose su cui stiamo riflettendo molto noi per prime pensare che ci sono dei costi umani che c'è una fatica che c'è un lavoro preliminare e che sono tutte cose che tendiamo un po' a prendere sotto campo perché siamo presi dal desiderio di pubblicare il nostro libro però vogliamo trasformare questo è quello che facciamo non solo in una realizzazione personale ma anche in un aspetto del nostro lavoro per cui è importante che si prenda in considerazione anche questa cosa ma io ne approfitto perché approfitto di Milo in questo caso perché magari non so come è andata poi per esempio hai stampato il libro e poi come è andata? il libro la previsione era di non so se possiamo un po' che vedere il libro non lo ricordo quante copie però top copie ce l'hai? no qua no online c'è qualcosa? sì sì per vedere il libro dici? c'è qualche no c'è pochissimo c'è qualche preview sul sito sopra ok aspetta continua continua no niente quindi in realtà il costo che abbiamo la cifra che abbiamo raggiunto era molto inferiore rispetto al costo previsto per quella tiratura per cui abbiamo diminuito la tiratura per stamparlo lo stesso facendo anche qualche marce indietro sulla carta e quindi sui materiali che sono sulla forma finale del libro come si usa? sopra stampandone molto meno sempre in offset in Turchia ma sei andato in Turchia? io non ci sono andato è andato lui wow e per esempio come ti sei relazionato? io ho vincito ma lui chi è? scusa Stefano Bianco è il primo allora Sunday back home per cui la tua aspettativa per esempio era quella c'è qualche pagina una documenta giusto per far vedere voi avevate progettato di fare questo libro tipografico si in quante cose? 500 350 o ci vede nulla e invece sta facendo delle domande però che? che? no siccome io ero proprio ignorantissimo rispetto a tutto questo che ho detto fino adesso dopo ho acquisito informazioni del tempo quindi non sapevo per esempio nemmeno bene qual era la differenza tra una stampa tipografica e una stampa digitale e quindi ho affidato molto a questa persona l'organizzazione nel tutto quindi andando semplicemente cioè il mio ruolo è finito in un momento in cui io mandavo i provini a lui e poi lui ha fatto delle manovre che io ancora ecco ok quindi passiamo ad un altro esempio c'è comunque un quale lento sì non so perché non c'è però andiamo avanti ma andiamo che sono a pagina una setta di qualcosa eh eh Ancelo se lo volete venere qui sì per favore no forse è meglio veramente parlo un po' così noi siamo un po' delle schiappe forse no anche non carica lei ecco le cari sì non è colpo no va andare c'è anche il chrome chrome va più rapido dire se lo uso più spesso è più aggiornato plug in ok comunque magari sul sito del grafico che l'ha fatto c'è anche più taglio proprio sul libro qua ci sono anche le foto singolari ma è vabbè ok scusa non ti volevo usare no 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 io avrei detto volentieri tutto quello che sapevo ma purtroppo alcune cose non le so e secondo me questo è anche un motivo anzi forse è l'occasione per dire che non so quanto cioè a posteriori ecco quanto questa sia una cosa da fare infatti mirandosi di nonna a persone con le quali io non l'ho mai visto per esempio quindi se l'avessi visto in faccia no no tornando indietro l'avrei fatto forse con meno fretta e tornando bluetooth tutto quello che merita ragionamento perché poi alla fine quando non vai in tipografia non vedi come è la stampa non vedi niente poi il libro c'è quindi prima che sia troppo no no ma io non ma io mi ricordo un paio di mail di Milo in cui mi faceva un interrogatorio epistolare ma questo come si fa perché poi invece hai fatto altre cose da solo in digitale per esempio sì sì io ti ho visto quella famiglia e poi sì altre però ecco io penso che quello che ho detto prima è che l'esperienza uno se la fa andando proprio in tipografia per quanto riguarda le caratteristiche più fisiche andando in tipografia e offrendo le palle un po' in giro a gente che ha più esperienza però c'è qualcuno che ha un concerto per bene ma io volevo chiederti ma tu hai deciso cioè ma come se i centoni ti vengono si sentono ma come se si sentono ma allora per come lo intendevo io il crowdfunding era questo cioè decidiamo cento copie non so il costo di produzione ogni copia è questo x 20 euro non lo so il libro costa 22 euro perché poi lo devi spedire e stop questo è per cui col crowdfunding copri solo esclusivamente il costo di produzione no no intendevo siccome ho visto che c'è shopping in quanto perché io non ho comprate ho messo una parte per averne più copie e ripeto il cuore di duro me ne sono rimaste due allo stesso prezzo quindi senza riprendendo i soldi che avevo sì sì no la domanda è un'altra cioè quante foto tu vendi direttamente dal sito e quanti libri hai distribuito in negozi o è solo online il crowdfunding è solo online in un senso come ha detto lui copri i costi prima che il libro esista lo compri prima che fisicamente esista no no ma forse quindi in realtà quindi questo è il punto sarebbe in realtà però non è così perché in conto è che uno fa una prevendita come nel caso di e allora il discorso è diverso ma ci si dice magari uno la prevendita la fa mettendo un prezzo un po' più basso non so in modo tale che comunque cumuli no un conto è che fa una roba del genere che è esclusivamente online cioè il concetto è non devi avere dopo altre 400 copie che hai fatto con i soldi delle relazioni che hanno perché non c'è senso ma a me fa venire il dubbio che tu non sappia esattamente cos'è il crowdfunding ok non c'entra niente cioè la distribuzione è il doppio no no eh forse voi lo sapete cos'è il crowdfunding vediamo no allora uno fa un po' bene esiste anche per altri progetti esatto come si chiama Indipo Go oppure l'altra Kickstarter Kickstarter sì ma io pensavo che la piattaforma guarda i fondi li ho che te li compri il libro ah ma non so che se per comprarlo pensavo fosse finanziare il costo ah solo per finanziare no guarda ti facciamo vedere due o tre cose così poi andiamo ecco ci sono delle cose magari vi fate una ricerchina fra di voi e fra un po' iniziamo a vedere i libri che penso che sia interessante per tutti poi confrontarsi su queste cose fare quasi più una tavola rotonda che un giudizio rapido sul libro però ecco per orientarvi guardatevi siti come Kickstarter come Indiegogo Kiss Kiss Bank Crowd Books e poi uno va avanti Emphasis Produzioni dal basso Produzioni dal basso Siamo qui grazie a un laboratorio che in parte lavora anche su queste cose no quello che è Produzioni dal basso che vedete è una cosa pugliese perché è di Puglia interessante poi ci sono molti fotografi che lo fanno anche tipo Robo Onster io dico io si cazzo eh? Nicole Baumgarten Nicole Baumgarten lo conoscete? se lo fa solo segnatelo vabbè Google vi sarà utile diciamo che cerchiamo di non andare a fondo su cose che potete trovare da soli e cerchiamo di lavorare su cose che magari possiamo darvi noi perché se no ci perdiamo insomma lo stesso soci project si basa su un concetto di crowdfunding che non si appoggia a una piattaforma ma sviluppa una piattaforma autonoma poi è un progetto un po' più complesso se ci mettiamo a parlare di questo dobbiamo chiedere di lavorare anche questa notte però insomma avete due o tre input per capire un po' questo mondo Emphasis si basa soprattutto su progetti fotogiornalistici come si dice di fotografia documentaria Magnum stessa aveva aperto una sezione di crowdfunding e ci sono tante perplessità che poi magari uno sviluppa nel corso del tempo ma sicuramente è uno strumento che è interessante almeno conoscere se non ce l'avete e adesso iniziamo a vedere il primo lavoro Biasi Biasi vieni qui accanto a noi come ti chiami di nome Brescia Daniele 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 hai riflettuto su tutte le domande che ti abbiamo fatto rimettiamo l'elenco vuoi ripensare grazie a tutti grazie a tutti